Iniziamo il nostro viaggio sui torrenti e i fiumi del Percentino. Iniziamo dal Nure, noi siamo a Roncaglia, zona particolarmente colpita quando ci fu l'ultima alluvione ed il paese rimase completamente sott'acqua. Oggi con le nuove sponde e tanta più sicurezza, la portata del torrente si è leggermente ridotta rispetto a ieri sera, come potete vedere anche dalle nostre immagini, quindi meno preoccupazione per quello che concerne il Nure. Qui siamo nella zona di Mortizza, dal Nure siamo passati al Po e in questa zona l'acqua del Po va a lambire quello che è l'argine maestro, ovvero il punto più alto dell'argine. Al di là di questo argine ci sono le case, le case di Mortizza e quindi c'è da sperare che il Po in questa zona non salga poi più di tanto. Qui siamo a Piacenza via Ninobixio che è stata chiusa al traffico, la carreggiata come potete vedere è già allagata, le dimensioni del fiume oggi la portata è di 6 metri ma secondo le previsioni addirittura domani si potrebbe arrivare a 8 metri, quindi ben 2 metri in più rispetto alla situazione attuale. Quindi il tutto destra naturalmente una forte preoccupazione e come potete vedere le forze dell'ordine, i vigili del fuoco sono già al lavoro su questa parte bassa di Piacenza. Ed eccoci sul fiume Trebbia, anche qui la portata è aumentata ma rimane comunque a livelli di guardia e non dovrebbero esserci grossi problemi. I problemi potrebbero essere rappresentati dal deflusso delle acque e dalle dighe, le dighe pare che a monte dei torrenti piacentini siano tutte stracolbe, come verrà fatta uscire l'acqua da queste dighe? Questo potrebbe essere il problema delle prossime ore insieme ad ulteriori piogge che potrebbero esserci a partire da martedì.